Oggi siamo qui a festeggiare una notizia bellissima che il Comitato per la salvaguardia del territorio di Paterna Zucco ha vinto di nuovo questa difficilissima battaglia contro un centro rifiuti sulla campagna produttiva siciliana, nella fattispecie nella contrada Paterna Zucco a Terrasini. Il CGA ha respinto il ricorso della ditta, dopo una sentenza storica del Tarre noi eravamo fiduciosi, che potevamo vincere ancora, fedeli nelle nostre buone ragioni. È stata una battaglia lunghissima, difficile, sofferta, spesso non siamo stati aiutati come avremmo dovuto essere aiutati anche da enti, associazioni e così via. Però abbiamo tenuto duro, abbiamo avuto tanti amici che ci hanno supportato anche moralmente, questo è importante, e adesso stiamo qui in questi tempi tristi, surreali, bui, ad avere una notizia finalmente positiva. Oggi abbiamo detto che è sbocciato un fiore in mezzo a questo deserto, che ci può fare guardare con speranza, con soddisfazione per la tutela delle campagne siciliane e per lo sviluppo economico del nostro territorio.